ariete giove avrà la meglio su venere sarà facile catturare l'attenzione del tuo referente portarlo esattamente all'accordo che desideri ma sarà la tua vita privata a risentirne toro arriverai esattamente dove vuoi otterrai quello che desideri giornata di trattative gemelli sei in vena di coccole e così lo stop forzato dovuto forse ad un'influenza non ti peserà poi più di tanto perché ci sarà qualcuno a prendersi cura di te cancro oggi è tutto un capitalizzare e monetizzare il tuo fiuto per gli affari o per le scelte professionali anche questa volta non ha sbagliato leone ogni minuto e spazio sarà location possibile per uno scambio passionale con il partner di sempre o la tua nuova fortunata preda vergine oggi potrai fare qualsiasi pazzia per amore venere innamorata e il romanticismo torna ad essere protagonista della tua giornata e delle tue emozioni bilancia al lavoro si presenteranno ostacoli marte ti vuole deciso e risoluto dritto all'obiettivo nonostante tutto e tutti scorpione qualcosa non ti riuscirà come speravi ma proverai e riproverai finché non sarà tutto perfetto la determinazione è senza dubbio uno dei tuoi caratteri distintivi sagittario sveglia ogni centimetro del tuo corpo e ritroverai l'energia che ti serve esci dal letargo anche emozionale in cui sei da troppo tempo prendi la vita di petto capricorno il desiderio e l'attrazione per il partner saranno tali che neanche un mal di testa e l'eccessiva stanchezza potrebbe rovinare la tua serata rovente acquario venere innamorata ma nervosissima dunque amatevi lasciatevi trasportare dalla passione ma parlate poco ed evitate ogni possibile minima discussione pesci è il giorno perfetto per le scelte che possono cambiare la tua vita per le scelte importanti giove mercurio sono con te